Ciao a tutti da VG Focus, anche questa settimana. La Club Rotation Dance Chart che fa in onda con i tre appuntamenti, uno al sabato e le due repliche la domenica. La Club Rotation Dance Chart parte anche oggi con Viva Last Week, la posizione al numero uno con il video più ballato della scorsa settimana. E avevamo Diana con Need You, video semplice ed orecchiavile che ha conquistato la posizione più alta della Club Rotation, facendo ballare tutti anche qui su Viva TV. Nella Club Rotation Dance Chart si susseguiranno i 10 video più ballati della settimana e noi ci rivedremo senza interruzioni dopo la posizione numero uno. Salutandoci poi con Viva Old, il video è strappolato per voi, Club Rotation Dance Chart, con la proposta scelta da me. Partiamo adesso con Viva Last Week, Diana con Need You. Ciao! 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 Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. lavati via. La voglia di dire qualcosa, gridare al mondo, qualcosa che non si dimentica, quindi ecco Remember, specchio di un presente che tutto ricorda. Passiamo adesso a Viva Old, oggi vi presento Carnaval de Paris Remix 2024 di Zitti e Timbo. Il video originale di Dario Giri sale al 1998, registrato in Francia per la Coppa del Mondo FIFA. Il ritmo ci fa davvero ballare tanto, un vero carnevale, la vera festa di queste settimane. Andiamoci a ballare il video Carnaval de Paris 2024 Remix e saluti da VJ Focus, noi ci vediamo la prossima settimana. Bye bye! Carnaval de Paris Carnaval de Paris Carnaval de Paris e chicoli ah vuoi ah Grazie a tutti Grazie a tutti